www.blu.lazard.it Ciao a tutti, ringrazio il Blu Lazard per questo invito online, io so che tutti oggi facciamo il Festival da Correnta, Correnta Mai. Noi stiamo invitando un po' di un po' e non dispiace che stiamo un po' sognando in fase a causa di un contatto. Forse anche se entri che ci stiamo in tuiti, io ho deciso di non contribuire a questa manifestazione comunque su internet, ma non accorremmo i suoi tuiti insomma, ovviamente a distanza. Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti.